Conoscete la storia. La regina cattiva. Specchio specchio delle mie brame. La magia. L'amore. Amore di cucciolo? Sai che me ne faccio di un cucciolo! Sono il mio padrono! E tanta confusione. A capo dei banditi c'è Bianca Nere. State con i banditi! E voi con la regina! Il bacio del vero amore è quello che libera da un incantesimo. Biancaneve. Questa sera 21.10. Rai Movie.